Vi do il benvenuto a tutti voi, ho dato un'occhiata alla lista delle persone che si sono iscritte a questo workshop, siete per la maggior parte docenti, devo dire di ogni ordine di scuola e anche animatori e animatrici digitali, quindi credo che sarà, mi auguro che possa essere un incontro interessante e certamente lo sarà per quello che io potrò apprendere da voi. Mi presento molto rapidamente, anche se credo che abbiate tutte le informazioni che mi riguardano, sono Mari Lucchiofalo, sono docente di fisica all'Università di Pisa, al Dipartimento di Fisica e sono anche associata all'INFN e ho una certa familiarità costruita nel corso di molti anni di didattica a partire dal mio dottorato di ricerca con la sperimentazione didattica, ovviamente in ambito universitario e quindi soprattutto nel corso degli ultimi anni mi sono dedicata a sistematizzare sempre più, sempre meglio la mia esperienza di ricerca didattica in una competenza di ricerca didattica. Quest'anno ho potuto seguire, abbiamo iniziato prima di Covid, abbiamo finito durante Covid il corso Insegnare e insegnare, che è un corso che l'Università di Pisa mette a disposizione dei propri docenti e delle proprie docenti per migliorare le proprie capacità di insegnamento e anche discutere le metodologie di insegnamento. Poi conosco il mondo della scuola perché è abbastanza bene, insomma lo conosco un po' perché per dieci anni ho servito come amministratrice locale, sono stata assessora avendo tra le deleghe proprio quelle alle politiche educative e scolastiche nella comune di Pisa e con questa funzione ho anche lavorato all'interno di ANCI, dell'Associazione Nazionale Comune d'Italia nella Commissione Istruzione e per ANCI nell'Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza. Quindi conosco un po' il mondo della scuola, spero che questo possa essere utile per tutti e per tutte noi. Questa mattina ho già anticipato alcuni dei temi che avrei proposto nel pomeriggio come temi di discussione. Lo scopo di questo workshop, dopo averne parlato con Dianora, avere concordato con lei un po' l'idea di fondo è quella di discutere di questo argomento, cioè dell'educazione al pensiero scientifico e di far emergere dal workshop, dal nostro dialogo, dialogo multiplo, siamo tante, siamo tanti, qualche idea che poi possiamo magari mettere a sistema e che possano poi rappresentare un input per la Ministra, già che ha chiesto una nostra riflessione e di conoscere in maniera dettagliata le nostre riflessioni per quello che poi si dovrà o si potrà e si dovrà fare. Il modo in cui pensavo di condurre il workshop, essendo soltanto un'ora ed essendo noi tanti e tante, pensavo di fare un piccolo, di introdurre il workshop con un keynote sul quale penso di poter essere abbastanza rapida, dato che molte delle cose che dirò sono state già un po' accennate questa mattina nel secondo panel, per chi c'era, per chi non c'era nessun problema, perché comunque la funzione di un keynote è soltanto quella di mettere in campo alcune idee dalle quali partire, rappresenta solo un punto di partenza per la discussione, dopodiché proporrei che, proporrei appunto di attivare la discussione, cosa che possiamo fare evidentemente solo tramite chat, quindi voi scriverete le vostre domande in chat, io risponderò, leggerò la domanda, risponderò alla domanda e naturalmente da questa domanda ne potranno nascere anche altre domande, osservazioni naturalmente e quant'altro. Quindi pensavo di fare così, penso che sia un po' difficile fare ciò che sarebbe molto opportuno fare, cioè una presentazione di ciascuno e ciascuna di voi, ma siamo davvero tanti, credo che siamo intorno anche più di 100, 120 a me risulta, quindi probabilmente è un po' difficile fare questo, propongo che man mano che la discussione va avanti, ecco se volete magari insieme alla domanda o all'osservazione scrivere davvero una riga di presentazione, io la leggerò molto volentieri in maniera anche da stabilire una relazione un po' più funzionante. Ok, benissimo, ottimo. Allora, io direi di, insomma se avete delle altre, delle osservazioni sulla conduzione che ho appena proposto, vi lascio qualche secondo per replicare nella chat, se invece il tipo di lavoro per voi va bene, io inizierei con la presentazione. Ok, non vedo reazioni nella chat, quindi proseguo con la presentazione. Va bene, ecco l'idea di oggi è quella di discutere un po' dell'educazione al pensiero scientifico, cioè di come sia possibile cambiare, rendere l'educazione al pensiero scientifico più efficace, più efficiente, a volte renderla e basta perché spesso manca, a partire da, in tutti gli ordini di scuola. Vi dico subito la mia idea a questo riguardo, io penso che questo sia possibile farlo molto bene a partire dal nido e dalla scuola dell'infanzia e poi andare in su. In questo senso la seconda parte di questa presentazione potrà fornire alcuni elementi, sono basati sulla mia esperienza e su un lavoro metodologico che sto conducendo anche al Dipartimento di Fisica, dove tra i corsi che insegno c'è anche un corso per insegnare e insegnare la fisica che è all'interno dell'FP24. Il corso si chiama La Fisica di tutti i giorni, quindi nella seconda parte vi racconterò il tipo di esperienza che sto conducendo, quali sono i pregi, quali sono i difetti che in questo momento riesco a vedere. Nella prima parte invece vorrei seminare alcune riflessioni che collegano d'altra parte l'educazione al pensiero scientifico con la didattica inclusiva o come almeno a me piace più dire la personalizzazione del processo di apprendimento e di insegnamento. Tanto che, ora le slide sono in pdf quindi non posso far, non farò comparire le animazioni, però quelle lineette che vedete in Nella, in Perla, l'idea è questa, è che diciamo un primo approccio, una prima relazione tra educazione al pensiero scientifico e la didattica inclusiva e chiedersi cosa dell'educazione al pensiero scientifico possa essere proposto in una didattica inclusiva, ma quindi viene anche almeno nel corso del tempo a me è sorta anche la domanda se l'educazione al pensiero scientifico possa essere di supporto alla didattica inclusiva e addirittura se alla fine l'educazione al pensiero scientifico non possa essere una forma, certamente non la sola, ma una delle forme più efficaci e più efficienti di didattica inclusiva. Quindi questo è un po' il senso del titolo. Per discutere questo tema, questa relazione inizierò prima con il mettere, condividere con voi, cioè mettere sul tavolo della nostra discussione una serie di idee che per me nel corso degli anni sono state di grande ispirazione, alcune le citavo già stamani nel panel, nel secondo panel, cioè l'idea delle intelligenze multipe di Howard Gardner, piuttosto che anche le 5 menti per il futuro sempre di Gardner, ma anche l'educazione al pensiero creativo e anche la riflessione sul pensiero laterale di Edward De Bono. E poi l'uso del gioco e dei giochi come metodologia di apprendimento e come vi dirò, in realtà non è solo di apprendimento, ma oggi è anche una metodologia di ricerca. Quindi ho messo due fotografie, due figure piuttosto esplicative. La prima in alto a sinistra è un'icona per tutti e per tutte noi, cioè Maria Montessori. Il secondo è un libro piuttosto interessante per coloro tra voi che hanno questo tipo di curiosità, di Jane McGonigal, Reality is Broken, che è un libro dove vengono analizzati tutti i vantaggi e le opportunità offerte dall'usare il gioco in un contesto educativo, ma anche in un contesto di ricerca e anche in contesti sociali. Nella seconda parte vi racconterò questa esperienza di didattica della fisica, di insegnamento della fisica da Galileo alla fisica quantistica, che è fondata su un'esperienza americana, quella di Lou Bloomfield, che è un professore dell'Università della Virginia, che ha ideato ormai più di dieci anni fa un corso che si chiama How Things Work, che è poi diventato un libro di grande, un testo di studio di grande successo, arrivato a una ennesima edizione, tant'è che si potrebbe anche pensare di fare una traduzione italiana. Questo è un corso di fisica, di alfabetizzazione alla fisica quantistica, da Galileo fino alla fisica quantistica, riducendo la formalizzazione matematica al minimo, ed è per questo che è un tipo di approccio, come vedremo, che secondo me può essere adattato a qualunque grado di istruzione. Non ne avremo assolutamente il tempo, il tempo nel senso proprio di numero di minuti e di secondi, ma quello che vedete qui, in questa parte della slide, è una tipica lezione che io svolgo all'interno di questo corso e che in questo caso è una lezione sul tempo, che parte appunto da Galileo con l'esperimento dell'esperimento del pendolo e che quindi consente di discutere come funzionano gli orologi, quelli meccanici, quelli elettronici, quelli elettronici digitali, il tempo nella termodinamica, quindi con la freccia del tempo e il concetto di irreversibilità, gli orologi atomici, quindi il tempo in meccanica quantistica, ma nel senso non nella meccanica quantistica, perché questo è un problema ancora molto aperto della fisica, ma l'uso della fisica quantistica e della fisica atomica per fare orologi molto precisi, ci sono oggi orologi che vengono realizzati, atomici che vengono realizzati in laboratori in tutto il mondo, che sbagliano un secondo nell'età dell'universo, per finire poi a quello che si può dire oggi sui viaggi del tempo, che sostanzialmente se l'avete mai visto, se non lo avete mai visto, vedetelo, è un po' il contenuto di Interstellar, che come sapete è un bellissimo film, è fatto molto bene, alla sceneggiatura ha collaborato Kip Thorne, che è un noto astrofisico, fisico teorico, però è anche un libro. e questo, come vedete, è già in questo tipo di lezione, c'è una sorta di affidabilizzazione di base sulla fisica, da Galileo alla fisica quantistica, alla relatività, che vi assicuro può essere fatta, è quello che facciamo in aula, senza uso di particolare formalizzazione. Comincio dalla prima parte, molto rapidamente, la prima tra le idee ispiratrici di cui vi parlavo, scusate ogni tanto io devo tornare, sì vedo, scusate ogni tanto, siccome io ho davanti a me le mie slide, ogni tanto devo tornare alla chat, quindi sono rimasta molto indietro sulla chat, leggo, sì Carlo Petralia, grazie, chiederei di contestualizzare se è presente diapositive, perché purtroppo non vedo, ok, quindi contestualizzare a parole Roberto durante, sì, cercherò di essere molto precisa, certamente, grazie di avermelo segnalato, ok, indirizzo sperimentale Giovanni Lascala, scienze di informatica, matematica, scienze informatiche in un corso di indirizzo sperimentale con certificazione finale a fine triennio, l'audio si interrompe spesso, mi dispiace, spero che la regia sia in ascolto e che possa quindi verificare se questo dipende da me o dipende da altro, la mia connessione in questo momento appare estremamente buona, cioè ho tutte le virgolette tacche che servono, quindi non saprei come fare, potrebbe allargare un po' la slide, io ce l'ho al massimo, vediamo se questo va meglio, spero che questo vada meglio, ma questo impedisce a me di leggere la chat, quindi lo farò dopo quando avrò smesso di leggere la chat, ok? Approfondiremo il concetto che lei ha anticipato di pensiero non computazionale, magari diremo qualcosa, sì, alla fine della presentazione, molto volentieri, tra l'altro sono cose di cui sto iniziando a occuparmi da un punto di vista di ricerca. Carlo Petralia dice pensare di implementare le attività in laboratorio anche virtuale per promuovere la cultura scientifica anche nel saper fare come processo inclusivo, processo utile anche per quelle scuole che non hanno fisicamente laboratori, assolutamente sì, concordo. Proposta per la Ministra, se vogliamo educare al pensiero scientifico, dice sempre Carlo Petralia, anche nei tecnici e nei professionali si dovrebbe applicare lo stesso criterio applicato nei licei, ahimè, temo sia molto vero. Va bene, le altre? Sì, vi state rispondendo a vicenda sulle impostazioni e sulle connessioni. Ok, allora metto a tutto schermo, spero che adesso sia sufficientemente grande e vi chiedo un po' di pazienza perché io devo appunto transitare dalla chat alle slide, non le vedo contemporaneamente, quindi descriverò alcune slide, poi vado in chat e cerco così di tenermi al passo con eventuali domande che possiate fare. Allora inizio con, dicevo, con le idee di ispirazione, con quella di Howard Gardner, delle intelligenze multipe, cosa dice Gardner? Essenzialmente lui distingue tra le abilità cognitive, quelle che insomma conosciamo, linguaggio, memoria, attenzione, dette in ordine inverso di fattore azzerante, dalle competenze che sono abilità di cui si è consapevoli, quindi abilità che essendone consapevoli sappiamo andare a ricercare nel cassettino della memoria o nel cassettino degli attrezzi al momento in cui ci servono per risolvere un certo problema o per creare un prodotto, dalle intelligenze che sono a loro volta competenze applicate in un contesto di relazione con persone, con ambienti, con cose. E a proposito di intelligenza lui dice ulteriormente, quindi questo mettendo insieme in fila abilità, competenze e intelligenze, di fatto l'intelligenza è un potenziale biopsicologico per processare informazioni che può essere attivato da un contesto culturale per risolvere problemi e creare prodotti che hanno valore in una cultura. Quindi l'idea e l'importanza, la centralità della relazione in questa idea ispiratrice di intelligenza è, almeno io la trovo, estremamente potente. Quindi va oltre Gardner e individua diverse intelligenze, era partito con 5 e arrivato a 10, che sono quelle che vedete qui nella slide a sinistra e che sono, le leggo, l'intelligenza naturalistica, quella musicale, quella logico-matematica, quella spaziale, quella intrapersonale, quella linguistica, quella cinestetica o l'intelligenza del corpo, quella interpersonale e quella esistenziale, poi l'ultima in ordine di arrivo mi risulta sia in qualcuno dei suoi ultimi talk che ho ascoltato, quella spirituale. Come funzionano queste tante intelligenze? Gardner dice, ogni persona le possiede tutte e le possiede tutte in una composizione che è unica e che rende una composizione che è unica per qualità e per quantità, ma soprattutto per come, ciascuna intelligenza entra nelle tante e questo è ciò che rende la nostra, l'intelligenza di ciascuno di noi non solo unica, ma anche in continua evoluzione a seconda, ritornando all'idea originaria, ispiratrice, a seconda del contesto di relazioni con cui noi entriamo in contatto. Adesso io sto facendo un'esperienza con voi e noi stiamo facendo un'esperienza insieme, usciti da qui qualche parte di una o più delle nostre dieci intelligenze di Gardner sarà modificata. Ogni intelligenza associata ad un'area del cervello implica una forma di linguaggio, pensiamo per entrambe le questioni all'intelligenza musicale che è localizzata per buona parte, anche se non completamente, più nell'emisfero destro che non in quello sinistro, implica una forma di linguaggio e può lavorare indipendentemente o anche insieme alle altre. Quindi qual è la bellezza di questa ispirazione, almeno secondo me? È che vedere l'intelligenza di una persona in questa maniera aiuta molto a pensare a progettare percorsi e processi educativi che possano personalizzare l'apprendimento. Qui ci sono due interviste video e audio, una a Gardner stesso, dove lui racconta quali sarebbero secondo lui le implicazioni di questa idea per il sistema di apprendimento, lui ha cercato di fare una profonda trasformazione nel sistema americano, scolastico americano sulla base di queste idee. Non le vedremo adesso queste interviste perché ci porterebbe via troppo tempo, ma se poi sarebbe tanto qui sono i riferimenti, ma se poi vorrete le vedremo in un secondo momento. La seconda intervista a proposito di personalizzazione e di didattica inclusiva è a Temple Grandin, non so quanti di voi l'abbiano incontrata nel loro girovagare, lei è una famosissima, credo la più famosa e più nota progettista di recinti per animali, è americana e il talk che vi propongo è un suo TED Talk di qualche tempo fa, lei è autistica e in questo talk lei racconta come la sua intelligenza visiva, spaziale, a proposito delle intelligenze di Gardner, che è molto sviluppata per persone nella sua condizione, le ha consentito di inserirsi perfettamente nel mondo del lavoro e anche di raccontare e di narrare la sua storia come una storia che poi possa essere di ispirazione a tanti altri. Da questa idea quali altre conseguenze possiamo trarre? Il fatto che ogni intelligenza può essere sempre sviluppata e potenziata, cioè non è fissa in quel numeretto così orribile che chiamiamo cosiddente di intelligenza e così mi verrebbe da dire quasi discriminatorio, oltretutto nei test di cosiddente di intelligenza per chi li ha fatti si sa che gli unici tipi di abilità che vengono provate, testate sono quelle che hanno a che fare con la logica induttiva e la logica deduttiva al massimo, nemmeno quella aduttiva. Quindi sono estremamente limitati a proposito di creatività e possono evolvere in ogni momento nella composizione unica delle sue intelligenze, per cui questo cosiddente di intelligenza forse non ha nemmeno tanto più senso. Tanto è vero che anche Gardner si rifiuta di, in una parte del suo libro, discute se e come questa sua idea di intelligenza debba essere sottoposta ad un processo di misura o possa essere pensato un sistema di indicatori e lui si rifiuta di predisporlo. L'intelligenza identifica un processo e non un prodotto, come nel QI, è adatta ad ogni simbolico di genere perché la relazione, il mettere insieme le parti è estremamente una delle caratteristiche principali. L'unicità resiste attraverso tutte le culture e vi faccio, osservo semplicemente anche come il pensiero scientifico sia anche abbastanza trasversale a tutte le culture. Le intelligenze non sono di per sé amorali, non hanno valori intrinseci, non importa quanto siamo intelligenti, ma come siamo intelligenti e le discipline sono solo dei mezzi, non sono dei fini e del discorso che si faceva anche questa mattina al panel, facendo anche un po' l'esempio, portando un po' l'esempio del sistema scolastico finlandese dove hanno eliminato le barriere tra le discipline, hanno eliminato i muri tra le aule e hanno eliminato la suddivisione in classi. E fanno scuola in una maniera completamente diversa, cioè scegliendo i temi importanti per l'umanità di cui discutere e discutendo quelli a partire da diverse discipline. Inoltre poiché un'intelligenza è legata, particolarmente si sviluppa attraverso un particolare canale di comunicazione, pensiamo non unico, ma prevalentemente pensiamo a quella musicale, a quella visuale, a quella cinestetica di comunicazione o di percezione. Ecco che qual è il collegamento con le tecnologie, che come una mia carissima collega la professoressa Lischi dell'Università di Pisa ama chiamare non nuove tecnologie, ma ultime tecnologie, perché le tecnologie non sono mai nuove e ogni volta sono soltanto ultime. E qui arrivano le tecnologie, perché le tecnologie, quelle analogiche per cominciare, ma anche e soprattutto quelle digitali, possono aiutarci a potenziare attraverso certi canali, se hanno a che fare con certi canali di comunicazione, a potenziare o a compensare certe mancanze in certi canali di comunicazione, per lavorare su un'intelligenza piuttosto che non un'altra. Vi propongo anche un'analogia di scala tra l'intelligenza di una persona e l'intelligenza di una comunità, che porta ad un'altra idea che io amo molto di un pensatore del nostro tempo, che in realtà è un premio Nobel per l'economia, Mattia Sen, il quale dice che la ricchezza di un paese non si misura con il prodotto interno lordo, anche lì un numeretto al posto del QI, ma con la capacità di ogni persona e della comunità nel suo complesso di evolvere e di crescere. Una comunità è capace di evolvere e crescere quanto più l'approccio alla soluzione dei problemi è diversificato, cioè passa per la differenza e la diversità, anzi, più il termine, corretto il termine, delle tante intelligenze, cioè come a costruire un'intelligenza collettiva. Ed è quella che io chiamo, in maniera un po' scherzosa, essendo una fisica, chiamo la strana matematica delle operazioni elementari tra uguaglianza, identità, differenza e potenza, nel senso che l'uguaglianza è quella di diritti, l'identità è una composizione unica di diversità e ciò che è veramente importante è il valore della differenza tra le persone ed è questo che crea capacità e dunque potenza. E infine le cinque menti per il futuro, di cui si parlava anche stamani, la mente disciplinata, che in realtà non è tanto la disciplina in sé, cioè non è la storia, non è la fisica, non è l'arte, ma è il modo di pensare, quindi il pensiero storico, il pensiero scientifico, il pensiero artistico, per esempio. La mente sintetica, quella che può orientarsi nella marea di informazioni, selezionando quelle che sono veramente importanti, la mente creativa e naturalmente la mente rispettosa e la mente etica, perché altrimenti abbiamo uno straordinario strumento, la mente disciplinata e magari anche sintetica e magari anche creativa, ma per fare delle cose che sono poco rispettose e poco etiche. Qui parlando di creatività, l'altra respirazione per me è la teoria del pensiero laterale di Edward De Bono. Cosa dice De Bono? Dice essenzialmente se pensiamo al modo in cui noi risolviamo i problemi, molto spesso noi procediamo usando la logica deduttiva al massimo, la logica induttiva e molto raramente quella adduttiva, perché su quella franiamo sempre, ci sentiamo sempre molto insicuri, perché nella logica deduttiva abbiamo le premesse, abbiamo le regole e da queste discendono le conclusioni, possiamo solo sbagliare i passaggi, mentre nella logica induttiva bisogna creare un'idea e nella logica adduttiva ancora di più, perché in quella induttiva dobbiamo creare le regole a partire dalle osservazioni, in quella adduttiva dobbiamo creare le premesse a partire dalle osservazioni. E quindi lui dice, beh a questo si può associare, questo che possiamo chiamare il pensiero verticale, che procede secondo la logica, dovremmo invece cercare di sviluppare il pensiero laterale, cioè quello che mentre la nostra mente procede dal punto di avvio del problema fino alla soluzione, per via della strada laterale, della strada soluzione verticale, a un certo punto si potrebbe creare un concetto nuovo, un'idea nuova, fare un salto lungo un'altra strada di soluzione che magari è più rapida e più efficiente. Propone anche dei trucchi che pensavo fossero suoi, originali, ma poi rileggendo anche grazie alla segnalazione di un amico astrofisico, rileggendo Gianni Rodari, sono le idee di Gianni Rodari, cioè dato un problema che dobbiamo risolvere, magari partire da una parola a caso e cercare da quella parola a caso di andare giù per associazioni di idee o anche per, sì insomma sostanzialmente per associazioni di idee, in questo modo esplorare uno spazio sempre più ampio di soluzioni, che è quello che fa una persona che ha affinato bene le sue capacità di problem solving. Le foto che vedete le ho scattate durante una mia visita al Museo Niraikan di Tokyo, c'era un'intera sala completamente dedicata alle strade della creatività e a me questo è parso molto interessante, perché noi pensiamo molto spesso, si pensa che la creatività sia in realtà qualcosa che o hai o non hai e che ci sia una sola strada per la creatività, cioè essere un genio creativo, in realtà la creatività si può creare un'idea nuova mimando un'idea già esistente oppure creando un'alternativa a quella idea, oppure integrando più idee diverse, apparentemente diverse in una nuova idea, oppure la creatività associativa, cioè mettendo insieme, facendo analogie tra problemi molto diversi, per esempio per rimanere nel campo della fisica Galileo è stato il primo a intuire qualcosa su cui ora le neuroscienze indagano molto, cioè sul perché noi consideriamo consonanti certi accordi e dissonanti altri accordi e lo ha fatto, se volete su questo poi possiamo tornare dopo, ma qui interessa solo l'analogia, lo ha fatto creando un'analogia tra il suo sperimento del pendolo, pensando a più pendoli di periodi diversi in rapporti di due a uno, nove a otto, due a uno come per esempio un accordo di ottava o nove a otto come un accordo di seconda in musica, con ciò che lui sperimentava sul suo liuto, che è uno degli strumenti che suonava. E poi l'ultima strada che è quella di Fleming o quella della scoperta delle microonde, dell'uso delle microonde, la serendipity dicono gli americani, gli inglesi, quindi non si può nemmeno dire come fortuna, cioè è una casualità, come dire, a volte capita e anche quella è una strada per la creatività. Altra idea ispiratrice è quella del gioco, il gioco come lavoro del bambino o della bambina, i giocattoli sono i nostri strumenti di lavoro, l'influenza del gioco nello sviluppo delle attività motorie, della lingua, della creatività, della consapevolezza personale, del benessere emotivo, della capacità di apprendimento e del problem solving. Il gioco aiuta a essere attivi, a scegliere, a capire come funzionano le cose, a partorire nuove idee, a gestire la fisicità, a usare l'immaginazione, a risolvere i problemi e imparare a collaborare con le altre persone. Jane McGonagall nel suo libro proprio vuole condividere questo messaggio che io ritengo molto importante, cioè il gioco serio cambia il mondo. Il gioco di norma ha un obiettivo, uno scopo, un set di regole che sono dei vincoli e delle opportunità per il pensiero, oppure delle opportunità per il pensiero creativo, ha un feedback che rinforza la motivazione, una partecipazione volontaria che prendere o lasciare mantenendo l'esperienza positiva e rinforzando la motivazione e in questo senso può essere uno strumento potentissimo sia per l'educazione, per l'apprendimento, ma anche nei luoghi di lavoro, nei processi decisionali e in generale in tutti i processi che sono di natura partecipativa. È competitivo ma come da etimo nel senso che è fondato sulle competenze, cioè il cum petere, andare tutti insieme verso lo stesso obiettivo, attiva le emozioni, accende speranze senza che si temano gli insuccessi, attiva la prosocialità, apre l'accesso ad avventure che sono epiche e ad ogni angolo di spazio-tempo e che quindi per noi sono estremamente coinvolgenti. Il premio è la soluzione e non c'è un premio in termini di compenso di lucro e poi è attiva delle risorse che sono durature ed enormi, un bene immateriale che è l'intelligenza e la creatività di chi gioca, che sono delle risorse straordinarie disponibili per il progresso della comunità, cioè è un pezzo di economia sostenibile. Tanto è vero che, come accennavo anche stamattina, questa idea di usare i giochi e coinvolgere giocatrici, giocatori che magari anche di fisica non sanno nulla, anzi meglio se non sanno nulla, ma devono sapere a cosa stanno partecipando, vengono costruiti dei giochi, è possibile costruire dei giochi per esempio che riproducono una situazione di un problema per esempio quantistico che si vuole risolvere e che non potrebbe essere risolto, ce ne sono diversi di questo tipo, problemi quantistici che non possono essere risolti con gli attuali computer a disposizione. Allora si costruisce un gioco che riproduce quella situazione, si fa giocare con tutte le regole e le caratteristiche del gioco, si fa giocare a persone che di quel problema non sanno nulla, ma che useranno la loro creatività e la loro intelligenza percettiva per trovare delle soluzioni, dopodiché si analizzano con l'aiuto anche delle neuroscienze e le strategie di soluzione e le si mettono come semi per una soluzione che adesso il computer classico quantistico porterà avanti, mettendo così insieme la potenza della creatività umana con la potenza algoritmica, così comincio a rispondere alla questione del computazionale, del computer, lì dove il computer da solo fa peggio ed è stato dimostrato, farebbe peggio ed è stato dimostrato della combinazione del computer con la mente umana, così canalizzata. Adesso mi fermo un attimo e guardo la chat, perché dopo questo vi racconterò semplicemente, se riesco, vi racconterò molto rapidamente qual è l'idea con cui, qual è la metodologia con cui metto insieme tutte queste cose nell'insegnamento della fisica, cerco di leggere se ci sono delle domande, alcune cose sono, alcuni sono commenti, tutto questo però non lo riscontro in quel che definiamo concetto di scuola inclusiva, lo vivo in modo diretto anche da persona adulta in condizione di disabilità, dice Concetta Lopreten, il pregiudizio, la non conoscenza esiste ancora purtroppo, certamente non c'è assolutamente nessun dubbio su questo. Analogia tra mappa del cervello e dell'universo. Sì, anche in questo devo dire c'è, dice Roberto Venturelli, non so se mi sia mai capitato, ma suggerisco davvero di leggerlo, è La mente nuova dell'imperatore di Roger Penrose, è davvero un bellissimo viaggio che mette insieme ciò che non sappiamo, cioè ipotesi su ciò che non sappiamo del funzionamento della mente umana con ciò che non sappiamo dell'universo e quindi questa osservazione dell'analogia tra le due mappe è molto opportuna. Sono un prof di lettere, credo sia importante anche condividere un sillabo di autori di riferimento, Feynman, Gelman, Jacques Monod, lo Skeptical Inquirer. Nel senso Matteo, scusi, sì, sono assolutamente d'accordo con gli autori che lei sta citando, cioè con il sillabo di riferimento, sillabo penso intenda con i messaggi principali che questi fisici e fisici matematici nella loro, tra l'altro sono anche tutti grandi divulgatori. Lo so, a Odi Freddi non piace Penrose, ma Odi Freddi, per carità sono insieme con lui nella giuria del premio Cosmos, insomma a Pier Giorgio Odi Freddi di solito non piacciono nemmeno le donne che fanno scienza, quindi insomma c'è un po' di… ci sono varie cose che non piacciono e ognuno ha i suoi gusti. L'acustica spesso troppo sacrificata, l'acustica come materia, Giacomo, o come il fatto che non riesci a sentire quello che dico? Ok, Marta molto entusiasticamente dice che sarebbe fondamentale implementare queste cose in tutti gli ordini di scuola a partire dalla primaria. Ok, sentite, se siete d'accordo io concluderei con la seconda parte questa presentazione, anche perché siamo davvero molto a ridosso con il nostro orario di fine in maniera poi da raccogliere le vostre ulteriori osservazioni. Allora, in che modo ho un po' ripensato, riconsiderato, riconfigurato le idee che mi sono state di ispirazione nel concepire questa modalità di insegnamento, cioè questo più che modalità non è una modalità fissa perché ogni anno c'è una continua ricerca nelle forme e anche nei contenuti peraltro della fisica di tutti i giorni, ma insomma come queste idee mi hanno aiutato a concepire un percorso didattico di alfabetizzazione di fisica, ripeto da Galileo alla fisica quantistica e alla relatività che in realtà io utilizzo in più modi, ricordo che è ispirato a questa esperienza di Lou Bloomfield, How Things Work negli Stati Uniti, ma insomma è largamente modificato e adattato da lì, ma comunque come uso questa fisica di tutti i giorni? Intanto quello che vedrete adesso è proprio il racconto di come funziona il corso di fisica di tutti i giorni per la triennale di fisica per quegli studenti e quelle studentesse che poi pensano di intraprendere un percorso di insegnamento e infatti è anche nel percorso FP24. Ma uso la fisica di tutti i giorni anche come approccio per l'outreach, per la divulgazione, che mi è capitato di fare da bambini e bambine molto piccoli ad adulti, persone anche diciamo nella loro diversa, nella loro terza età. E poi lo uso come parte di un pezzo, un primo approccio nei corsi quelli più strutturati di fisica, che ne tengo diversi, sia a fisica che in altri corsi di studio, soprattutto farmacia, quest'anno anche veterinaria, lì dove poi c'è anche la formalizzazione. Ok? Però alla formalizzazione faccio precedere l'approccio che adesso vi racconterò molto in breve. Spero di avere messo, sì, credo di avere messo il full screen. Perché questo approccio? Per realizzare un cambio culturale, perché la fisica si inizia a 14-15 anni, quando ormai tutti i nostri errori concettuali sono stati perfettamente scritti nel nostro modo di vedere il mondo e oltretutto l'immaginazione di quando eravamo bambini e bambine ci ha del tutto abbandonato. E anche il nostro approccio sperimentale alle cose, all'apprendimento. E da quel punto di vista noi, come dire, nasciamo tutti, io dico sempre alle mie studentesse e ai miei studenti, nasciamo tutti come Aristotele, che insomma è un bel dire, a tutti piace nascere come Aristotele, ma Aristotele faceva tantissimi errori concettuali sulla fisica, che poi Galileo sostanzialmente ha spiegato. E quindi, come dire, noi rimaniamo fino ai 14 anni nell'infanzia della conoscenza dell'umanità e questo ci preclude non tanto una conoscenza della fisica, della una capacità di spiegare fenomeni che sono intorno a noi, quello ovviamente molto interessante, molto divertente, ma ci preclude l'esercizio del pensiero scientifico, che caratterizza la fisica, tutte le scienze sperimentali e la fisica a partire da Galileo sopra molte altre. Quindi un cambiamento culturale innanzitutto, ma anche un divertimento, come le nostre riflessioni sul gioco ci hanno ispirato a dire, ci ispirano a dire. In questo senso il corso è destinato sia a studenti che sono molto ben educati e istruiti con la fisica, infatti studenti di fisica, del corso di fisica dell'Università di Pisa, perché per loro questo significa focalizzarsi sulle idee essenziali della fisica e esercitare il pensiero scientifico senza avere la complicazione e a volte la distrazione dell'approccio formale, perché nell'approccio formale se non si sa quello che si sta facendo, cioè se non si ha la cultura sotto, la tecnica molto spesso ci porta fuori. Infatti studenti che usano questo corso, che partecipano a questo corso, poi dicono di avere migliorato largamente la loro capacità di risolvere formalmente esercizi molto complicati, ma è destinato anche a studenti che non hanno un'educazione scientifica quasi per niente, infatti arrivano anche studenti di scienze della comunicazione oppure di altre aree umanistiche, di filosofia per esempio, che non sono abituati a ragionare su cosa sia la scienza e perché sia importante e quindi in questo senso chiaramente ancora di più un approccio culturale. E poi nell'outreach, quindi nella divulgazione scientifica, la cittadinanza non è educata alla scienza, ne parlavamo anche stamattina parlando di come si affrontano le cose scientifiche che riguardano Covid e la nostra consapevolezza di quel che sta accadendo e il fatto che appunto insomma almeno tutte le persone che qui saranno dell'area scientifica sanno che insomma se una persona in una conversazione ti chiede che cosa fai nella vita, tu rispondi ma sono una fisica, la conversazione di norma finisce lì. Se non finisce lì la fisica diventa qualcosa di magico oppure una trasmissione di informazioni che sono come dei fatti, dei fattoidi in realtà, perché non dicono niente, non spiegano, la memorizzazione di nomi, semplicemente la trasposizione di pret-à-porter, di esperimenti pret-à-porter di cui non si sarebbe mai in grado di ricostruire, riconfigurare e quindi nessun livello di spiegazione. Il pensiero scientifico si fonda su tre pilastri, l'esperimento e l'osservazione dal quale noi creiamo delle nuove idee che ipoteticamente spiegano quelle osservazioni, dopodiché prendiamo queste idee e le formalizziamo con il linguaggio in questo caso che è il linguaggio della matematica e della fisica e della matematica e poi la nostra formalizzazione, che sia una teoria o un modello, farà delle ulteriori predizioni che noi possiamo provare in un successivo esperimento e il cerchio si chiude. Guarda caso questi tre pilastri sono anche tre pilastri dell'arte perché anche nell'arte c'è la sperimentazione, c'è la creatività, c'è uno sviluppo formale con un altro linguaggio ma sempre sviluppo formale. E anche nell'arte abbiamo un problema di divulgazione molto spesso e di educazione all'arte, di alfabetizzazione all'arte che non sia alla scuola dell'infanzia prendere, mettere in mano alle nostre bambine e ai nostri bambini i pennarelli colorati e dire fai un disegno. Allora l'idea di How Things Work o della fisica di tutti i giorni è cortocircuitare la parte che dalla creatività andrebbe allo sviluppo formale e quindi lavorare soltanto con l'esperimento e la creatività mantenendo così, lasciando al minimo lo sviluppo formale o anche a zero, a seconda del livello di istruzione. Quindi in una scuola dell'infanzia sarà zero, in una scuola primaria sarà quasi zero, in una scuola media comincio a metterci qualcosa, scuola superiore, università e così via. In questo modo mantengo il carattere sperimentale del pensiero scientifico, cioè mantengo i pilastri del pensiero scientifico e continuo a lavorare con l'educazione alla creatività, era quello che diceva oggi la nostra dirigente scolastica nel panel 2, diceva attenzione che l'educazione alla creatività non diventi una materia, l'educazione alla creatività non deve essere una materia, ma in ogni materia, qui la fisica, bisogna lavorare sulla creatività, sviluppare la creatività e questo è esattamente il senso di questa idea. Come si fa? È molto semplice, invece di partire, questo è un esempio di come il libro How Things Work, come vedete il titolo questo in rosso è quello per il backstage, cioè quello per il docente o per la docente, parliamo della risonanza e delle onde meccaniche per esempio, ma in realtà quello che io propongo agli studenti e alle studentesse sono come funzionano gli orologi, gli strumenti musicali, le onde del mare, perché non importa quale di questi argomenti io prenda, ma in tutti questi argomenti io potrò discutere lo stesso concetto, a partire da osservazioni differenti e da una combinazione diversa e differente delle osservazioni e della creazione di ipotesi. Per esempio chi fa surf usa il concetto di risonanza e questa è una cosa che non è nota quasi a nessuno, invece in questa maniera si riesce davvero a collegare il primo neurone con l'ultima falange, cioè mettere insieme la parte astratta con la parte concreta delle nostre capacità di apprendimento e quello che facciamo è naturalmente partire da osservazioni, per esempio queste sono immagini da una lezione di come funziona il forno a microonde, si porta un microonde in aula, si comincia a mettere dentro acqua, olio d'oliva, ghiaccio, zucchero, marshmallows, compadisc e altre cose e ogni volta a partire dall'osservazione di quello che succede e educando in questo modo anche al senso dell'esperimento, cioè quali sono le condizioni sperimentali, anche se le lasciamo in una forma qualitativa tutto sommato, cominciare a costruire dei concetti di base, vedete quelli in arancione sono campi elettromagnetici, polarizzabilità, molecole polari, modi rotazionali, metalli e ceramiche, la legge di Ohm e l'effetto Joule, questi sono tutti i concetti che entrano in una singola lezione, quindi si verifica se si è capito, a partire da ciò che abbiamo capito, facciamo delle nuove predizioni che poi sperimentiamo nel nostro forno a microonde e così funziona. Come sviluppiamo il programma? Il programma è un programma come dicevo di alfabetizzazione dall'inizio alla fine della fisica, alla quale io ho aggiunto una lezione che si chiama fisica in cucina, dove si impara a cucinare tre ricette, una con la carne, una con la pasta e un'altra con, poi si fa il gelato istantaneo con l'azoto liquido e in ciascuna di queste si comprendono i concetti in questo caso di chimica fisica e di fisica che sono coinvolti, la fisica di Harry Potter che è un format che porto molto spesso in giro e poi si usano anche i progetti di lavoro che gli studenti e le studentesse dell'anno precedente hanno preparato come loro esame, cioè loro come esame preparano un progetto didattico nello stile della fisica di tutti i giorni su un argomento che piace a loro, che a loro interessa e poi questi argomenti diventano a loro volta, entrano in circolo in una economia sostenibile, entrano in circolo e diventano nuovi argomenti che vengono proposti l'anno successivo e quando nella prima lezione dell'anno, del semestre, si decide insieme il programma, nel senso che se io devo discutere le leggi del moto per il punto materiale, posso discutere di come si pattina, posso discutere di come funziona una ruota di bicicletta e altre cose e saranno gli studenti e le studentesse a decidere cosa preferiscono vedere sulla base della loro curiosità e del loro interesse. Dopodiché io preparo la lezione e in questo modo la motivazione cresce. Niente, quindi questa è un po' l'idea complessiva che naturalmente produce di solito anche un sacco di divertimento, produce nuovo materiale e nuova conoscenza, non vi nascondo che ho imparato molte cose discutendo con gli studenti e le studentesse dei loro progetti didattici, non solo non ve lo nascondo ma lo dico con molto orgoglio e con molto piacere. E questo davvero funziona nel praticare e rinforzare il pensiero scientifico, il metodo scientifico, si focalizza sui concetti e sulle idee e sviluppa la creatività, l'intuizione scientifica e la capacità di problem solving. Dopodiché sapete cosa accade nei corsi dove uso questo approccio e dove sono contenti, sono corsi non di fisica, quindi che ne so, corsi di scienza della vita dove normalmente la matematica non la fa esattamente da padrona e quindi sono corsi in cui quando inizio gli studenti e le studentesse sono molto felici perché in questo corso c'è la fisica ma non c'è la matematica, cioè i problemi alla fine loro imparano a risolvere i problemi non prendendo a caso più o meno a caso un'equazione da un sacco e applicandola a un caso particolare senza capire assolutamente ciò che stanno facendo ma usando l'esperimento e la creatività, la sperimentazione e la creatività, ma quando alla fine del corso chiedo cosa cambiereste nel corso dell'anno prossimo loro dicono prof l'anno prossimo ci metta un po' di matematica perché adesso ce la può mettere, soltanto che gli studenti e le studentesse saranno diversi. La prefazione del libro è stata scritta dal premio Nobel per la fisica Carl Weiman, nonché professore dell'anno 2004 negli Stati Uniti, dopo aver preso il premio Nobel e si è dedicato interamente alla didattica della fisica, ha scritto una prefazione a questo libro in cui sostanzialmente dice che ha imparato più dalla lettura di questo libro senza alcuna formalizzazione, mettendo insieme esperimentazione e creatività che non in tutta la sua carriera scientifica. Ok, quindi questa era un po' la presentazione, dunque ritorno alla chat, cercando di, ecco da dove riprenderla, fondamentale è implementare queste cose in tutti gli ordini di scuola, dice Marta, Dario dice importantissimo, il gioco è importantissimo ma sempre di più quando lo propongo, soprattutto nelle forme che comportano abilità e rischi, avverto il peso della responsabilità. È altrettanto chiaro che anche per questo servono, io credo, almeno dico cosa a me manca e che la mia università sta provvedendo, cioè c'è un percorso per provvedere a questa necessità, a questo bisogno. Credo che ciascuno e ciascuna di noi nell'insegnare non abbia veramente bisogno di un metodo, ma abbia più bisogno di un luogo dove discutere i problemi didattici, dove sciogliere i nodi che ci sono, che incontriamo quando facciamo una nuova sperimentazione o quando proviamo un nuovo approccio e quindi questi sono certamente dei nodi importanti, quelli che dici Dario e probabilmente io riterrei, il peso di responsabilità è ancora maggiore se è una cosa che tu cerchi di risolvere da solo, piuttosto che non avendo un gruppo che ci lavora. Come fare a convincere i genitori che i bambini devono arrampicarsi, sporcarsi, rischiare per crescere assieme e collaborare? Questo è una bella domanda. Io dico sempre che da piccolissimi e da piccolissime noi impariamo esclusivamente, parlo da zero a tre anni, noi impariamo esclusivamente, apprendiamo esclusivamente attraverso l'esperienza, battendo le sederate, le ginocchiate e così via e poi penso che a volte apprendiamo poco perché, io sono anche una mamma, per l'ansia del genitore che invece cerca di limitare lo spazio, quindi lo spazio di gioco, il problema è trovare un equilibrio tra ciò che sia un minimo di vincolo e che possa consentire di costruire uno spazio di gioco in una sostanziale sicurezza per le cose di base e impedire completamente qualunque cosa. Potrei proporre il tema della conoscenza dell'accessibilità da conoscere per mettere in condizioni di consentire a chi non vede di fruire alla pari degli altri di tutti i contenuti digitali. Certamente questo, scusi Concetta, è relativo a questa specifica presentazione o è una domanda generale? Me lo potrebbe riscrivere in chat per favore? Sì, 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 sì. Ok, mi sto guardando anche le altre, va bene, insomma, comunque provo a rispondere immaginando quale fosse il senso della domanda. Io credo che le tecnologie odierne viano delle grandi opportunità. Io non ho un problema visivo, però ho un problema di concentrazione, per cui mi concentro di più se ascolto che non se leggo, per esempio, e trovo che nei dispositivi di quelli normali, di normale uso che ho, ormai posso fare qualunque cosa utilizzando la funzione di dettatura oppure utilizzando la funzione di lettura. L'intelligenza artificiale ha fatto enormi progressi da questo punto di vista e credo che molti di più ne vedremo in futuro. Io credo che i prossimi 10-20 anni saranno davvero una grande rivoluzione per le nostre vite quotidiane. Il pensiero quantistico si scontra con la logica discreta che è troppo amata dalla scuola, e lo so. Il pensiero quantistico è fantastico perché richiede un sacco di immaginazione perché la fisica quantistica si comprende soltanto se si mette dentro la matematica, fino in fondo, e se no bisogna usare l'immaginazione di cui le bambine e i bambini sono capaci e che noi perdiamo dopo. Perché insomma se devo raccontare l'effetto tunnel a qualcuno, se lo racconto un bambino o una bambina non farà nessuna fatica a immaginare di cosa sto parlando. Per qualcun altro potrebbe essere invece una cosa completamente fuori da ogni logica, perché è fuori dalla nostra esperienza quotidiana. La fisica quantistica è la teoria di cui la fisica classica è un caso particolare, quindi se c'è una teoria fondamentale è la fisica quantistica. In realtà probabilmente non è nemmeno ancora quella fondamentale perché dobbiamo ancora trovare la teoria che metta insieme la gravità con la fisica quantistica e quindi ancora ci manca un pezzo, però la fisica quantistica la usiamo per discutere fenomeni che noi non vediamo con i nostri occhi, non sentiamo con le nostre dita e non ascoltiamo con le nostre orecchie, quindi che sono totalmente fuori dalla nostra esperienza. Dice Carlo un esempio didattica a distanza, la determinazione di una massa di una mole di pasta, collegare un concetto complesso come la mole correlandolo con la realtà, esattamente. E a proposito di didattica a distanza, sottolineo anche, osservo anche al panel di oggi, che quanto diciamo si potrebbe fare in termini di uso di realtà immersiva, di strumenti, di tecnologie immersive, di realtà aumentata o meglio ancora di realtà virtuale per ricreare anche a casa dei piccoli laboratori con i quali una volta che siamo stati a scuola in presenza, perché prima o poi sperabilmente ci ritorneremo, una volta che siamo stati a scuola o all'università in presenza e abbiamo fatto i nostri esercizi di laboratorio, poi li possiamo rifare a casa in condizioni di totale sicurezza. Per le attività di gaming si potrebbe utilizzare CAUT per esempio, sì CAUT come anche Socrative ci sono moltissimi tools estremamente utili, estremamente interessanti. Purtroppo slides solo in inglese, Maria Mormone, le prima di mettervele a disposizione le tradurrò in italiano, ma comunque ho letto in italiano quello che era scritto in inglese, quindi questo spero che sia stato utile, mi scuso per la svista. Sarebbe bello poter condividere queste pratiche, le nostre riflessioni, le nostre istanze tra di noi e magari aprire un tavolo di discussione con la nostra sinistra, dove la cultura manca un po' dappertutto. Le faccio i complimenti perché so che non è facile fare l'evoluzione scientifica, grazie, ma anche io sto cercando di affinare le mie capacità e i miei strumenti, i miei tools. Potrei proporre a Dianora, se siete d'accordo, di dare un seguito a questo workshop e provare a creare un gruppo di lavoro su questi elementi, almeno in particolare. Mi piace questo lavoro di far fare agli studenti lezioni sulla scienza, lo uso anch'io con i miei adolescenti che condividono su un Padlet le leggi scoperte o le ipotesi, fantastico. Grazie, è stata chiarissima, grazie, grazie a tutti, a tutte, grazie, sono lieta che sia stato utile. C'è una versione in italiano di come funziona? Eh no, non vi nascondo che sto cercando di convincere, beh più che di convincere, stiamo ragionando con una casa editrice, perché ci sono pro e contro a questo, stiamo ragionando con una casa editrice di farne una traduzione in italiano, certamente. Da parte mia sto mettendo il mio corso di fisica di tutti i giorni in video, in una maniera sufficientemente professionale, con i video degli esperimenti fatti in casa, devono essere tutti rigorosamente fatti in casa, Massimiliano che come avrete letto è la persona, Massimiliano Labardi è il collega, nonché il marito che prepara gli esperimenti è costretto a usare soltanto cose di casa. Per la scuola primaria alcuni suggerimenti e materiali spendibili per creare le basi per il pensiero scientifico? Ci sono alcune, non c'è moltissimo, ci sono alcune buone pubblicazioni che sono, per esempio, la fisica del Miao, la fisica del Bao, non so se l'avete sentiti, ci sono anche alcune, ci sono anche dei materiali online su YouTube, sono tutti in inglese però, che io sappia, con una collega finlandese, Sabrina Maniscalco, che a Helsinki stiamo lavorando alla realizzazione di una piattaforma per l'alfabetizzazione di base, soprattutto sulla fisica quantistica, ma poco alla volta penso che proveremo a metterci anche, almeno in Italia, contenuti nella versione italiana, contenuti anche del resto della fisica. Questi video sono molto ben fatti, sono i TED Talk per piccoli, sono davvero molto ben fatti e poi c'è un altro canale YouTube che si chiama One Minute Physics, One Minute Physics con P-H-Y-S-I-C-S, che è fatto benissimo, pochi minuti di semplici concetti della fisica raccontati estremamente bene in un modo molto accattivante. È chiaro che bisogna attivare la traduzione, su YouTube si può fare, attivare la traduzione non sarà il massimo, ma si può attivare la traduzione, i sottotitoli nella lingua che si desidera, questa è una possibilità. How things work, cioè la fisica di tutti i giorni, cioè il libro, scusate in inglese, è una buona fonte anche per la scuola primaria, lo dicevo prima, non c'è formalizzazione, quindi con la mediazione dell'insegnante può assolutamente funzionare. Lei crede che sia possibile una svolta creativa della didattica con l'attuale organizzazione della scuola e delle materie? No, con l'attuale organizzazione secondo me no. Secondo me Covid era l'occasione per fare la più grande rivoluzione. E come dire, se tanto abbiamo dovuto lasciare i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze a casa per dei periodi, perché non eravamo attrezzati per fare in modo che si potesse andare a scuola comunque in sicurezza e anche perché, mi permetto di dirlo, se la scuola è davvero importante non può essere importante solo per chi la fa, per chi ci va e per chi la amministra. La scuola deve essere importante anche per tutti gli altri, quindi mi aspetto che se la scuola è davvero importante durante l'estate non si faccia come la cicala e si cerchi di ritornare a settembre in una maniera che non ci sia un indice del contagio che riobblighi di nuovo, oltre a tutti gli altri errori che sono purtroppo stati fatti, in alcuni casi inevitabili, a volte invece evitabili, si sia costretti di nuovo a chiudere la scuola. Quindi secondo me in una situazione di questo genere si poteva cogliere l'occasione, io ho anche provato a suggerirlo, di fare un completo ripensamento che deve passare inevitabilmente anche attraverso una diversa organizzazione e una formazione a tutti i livelli e in questo modo, ognuno in questo modo avrebbe fatto la propria parte ma tutti insieme avremmo fatto una grande cosa per il Paese. Ok, credo che non ci siano altre domande. In questo periodo di isolamento il dialogo ascoltato mi ha riempito emotivamente, ne sono veramente felice. Crede sia utile sensibilizzare gli alunni e le alunne sull'open access, libero accesso alla ricerca scientifica, assolutamente sì, ma bisogna anche che chi fa ricerca in accademia ma anche nell'industria si attrezzi bene per narrare i contenuti della ricerca in una maniera che sia accessibile, altrimenti in maniera che sia accessibile che significa mantenere il rigore scientifico, cioè l'abuso di analogie che a volte portano fuori strada e portano fuori dal rigore scientifico di quel particolare concetto e insieme un linguaggio che sia accessibile. Sarebbe possibile avere qualche suggerimento e bibliografia utile per gli insegnanti della scuola primaria? Ho già risposto prima alla medesima domanda, grazie ai consigli su YouTube, consiglio anche FET e SIC, SIC Science, assolutamente sì, grande idea Dario, sì. FET tra l'altro è una iniziativa dell'Università del Colorado a Boulder, che è il luogo dove io mi recco molto spesso per il mio lavoro di ricerca, effetto gemma proprio da quella grande attenzione alla didattica della fisica che è iniziata anche con quel Carl Weimann premio Nobel che appunto era di Boulder, Università del Colorado, quando ha vinto il premio Nobel e poi ha iniziato a dedicarsi alla didattica insieme ad altri colleghi e colleghe straordinari, adesso lì c'è un gruppo di ricerca didattica della fisica che è dei più grandi gruppi di ricerca su argomenti specifici, che ne so, sul grafene o su questioni specifiche che io conosca in Italia, quindi c'è un gruppo di ricerca sulla didattica della fisica, dove poi fanno anche indagini, statistiche e trovano il modo di rimettere ciò che imparano dalla misura dei loro cambiamenti nell'organizzazione e nella modalità di fare didattica, di rimettere, cioè prendere risultati, riflettere pedagogicamente e scientificamente sopra questi e poi proporre ai colleghi e alle colleghe che tengono i vari corsi delle modifiche della loro modalità di insegnamento. Negli Stati Uniti è stato fatto un grandissimo investimento su questo e non so se lo sapete anche in Cina, già a partire da 15 anni fa, che è il motivo per cui la Cina è diventata una grande potenza industriale ed economica. FET è fantastico, io non avrei potuto farne a meno durante il lockdown, la didattica a distanza perché come potete capire nel mio lavoro didattico in fisica faccio molte dimostrazioni d'aula e non essere in presenza sarebbe stato un grosso problema. Con FET e con alcuni altri piccoli accorgimenti, fare dei video, delle esperienze didattiche e poi proporre quelli o proporre ai ragazzi e alle ragazze di fare certi esperimenti a casa prima di fare lezione, insomma con una serie di accorgimenti sono comunque riuscita a mantenere questa idea dell'esperimento, di mantenere le dimostrazioni d'aula come punto di partenza del nostro lavoro concettuale. Un'ultima domanda perché penso che dopo dobbiamo partecipare al webinar esatto, oltre al sito della Colorado University, conosce delle piattaforme di lavoratorio simulato, fisica, chimica, biologia, alcuni che si trovano sul web sono a pagamento. Allora no, per le altre di laboratorio simulato non ne conosco, ci sono alcune esperienze che gemmano da IRC, come si dice, cioè da progetti europei finanziati dall'European Research Council nella parte della divulgazione, quindi non hanno davvero una cosa didattica ma più divulgativa, però posso dire che FET di recente si è evoluto, nel senso si è esteso, non è più soltanto laboratorio di fisica virtuale ma anche laboratorio di chimica, di biologia e di altre discipline scientifiche. Un altro riferimento molto utile che penso sia fondamentale darvi è il gruppo di ricerca della professoressa Marisa Michelini all'Università di Udine, che è una delle massime esperte di ricerca didattica nella fisica, con particolare riferimento anche alla didattica della fisica quantistica, andate a cercare il suo nome e i suoi riferimenti e magari scrivetele anche, perché lei ha molti contatti con le scuole e fa un grandissimo lavoro con le scuole di ricerca didattica in fisica. One Minute Physics e l'altro, cos'erano i TED Talk per piccoli? Creare un gruppo di lavoro perfetto ma per fasce di età. Oh, chi mi cita? La Cristina Lazzeroni in UK, ha creato un progetto sulla fisica delle particelle e il DS di Carvico ha iniziato anche un progetto in Italia. Sì, Cristina eravamo compagne di casa, coinquiline, siamo state compagne di corso qui all'Università di Pisa, è molto impegnata, lei adesso è in Inghilterra, è molto impegnata anche nella ricerca didattica e nella divulgazione e oltretutto è anche la Spox Human, cioè la responsabile di uno dei più importanti esperimenti del CERN, è davvero una persona straordinaria, sono contenta di sapere questo e magari chiederò a Cristina se possiamo agganciarci su qualcuna, ne avevamo anche già pensato una delle ultime volte in cui ci siamo incontrate al CERN e magari sarà questa l'occasione. In Indire si possono trovare materiali didattici interessanti, vero, soprattutto sulla fisica classica, quello che posso dire è che sulla fisica classica in effetti si trovano molte cose fatte abbastanza bene nei classici siti, nei siti diciamo quelli come Indire, come quelli che insomma qualcun altro ha citato anche su, sulla fisica quantistica c'è invece una grande mancanza che devo dire sono io sono molto impegnata a colmare e ovviamente non da sola ma con una bella rete di collaborazione dove sto coinvolgendo anche istituzioni con competenze pedagogiche assolutamente straordinarie. Ci potrebbe avere la sua presentazione di oggi? Assolutamente sì, la ripulisco delle ultime slide che non c'era ovviamente tempo di presentare ma che avrei usato in caso di domande e la darò a Dianora e chiederò a Dianora di veicolarvela. Sì, infatti effetto colorado c'è anche chimica, sono una docente intrusa, bene amiamo le docenti intruse, amiamo tutto ciò che fa disordine perché stimola la creatività e anche per la chimica sì assolutamente. È bello anche il sito di Fendt, molto valido, grazie del suggerimento andrò a vederlo con molta curiosità, molta curiosità, me lo copio subito e poi ci andrò. Benissimo, credo che voi dobbiate andare all'altro webinar e è stato un piacere essere con voi, spero di esservi stata utile, ovviamente mi potete contattare in qualunque momento e se mi volete contattare il mio indirizzo di posta elettronica, non so quanti lo abbiano notato, in realtà non è notato perché non l'ho messo ma è messo qui, ve lo metto qui, eccolo qui, è maria.luisa.chiofalo at unip.it, ma insomma se mi cercate con qualunque motore di ricerca mi trovate, rispondo molto volentieri, anzi sono molto interessata a dialogare su questi aspetti, a confrontare esperienze e a imparare cose che non so. Un caro saluto a tutte e a tutti.